a chi ci vediamo? dove è lungo la pista? va bene, è brutto Totti a 37 anni è ancora così decisivo per la Roma? è una domanda dimmi anche le risposte però ci servirebbe che Totti non è la colonna portante della Roma ci servirà un parere parere lui c'è il sangue giallo e rosso quando si andava a fare l'analisi capirai queste domande? Totti si è che siamo stati insieme e non ti porto più la parte come ti porto più questa parte? a Reggio e Iode è più bella la mano della Roma Garzia ottavo re di Roma no 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 che no ottavo ottavo re di Roma Garzia è forte è il miglior allenatore che c'è sul piazza come ti voglio domandare? ormai stanno a vincere lo scudetto no? sei ragazionato eh? nooo ragazzacci proprio che gentaccia